Buongiorno, sono Michele Sergio del Caffè Cambrinus, ci troviamo in Biachiaia e oggi faremo il tutorial del caffè scegherato. Come fare un caffè scegherato in pochi minuti a casa, è facilissimo, però prima di procedere alla realizzazione di questo caffè vorrei salutare tutte le persone che ci seguono da casa, siete tantissimi, vi ringrazio e poi volevo fare una precisazione, vorrei dire che finalmente i caffè gurumè napoletani stanno conquistando tutta Italia. Diciamo che mio padre non voleva perché mi disse Michele non spiegare a tutti come si fanno i caffè gurumè napoletani perché tutti quanti ci copiano e infatti tutta Italia ci sta copiando, dal nord al sud tutti che propongono i caffè al pistacchio, alla mandorla, alla nocciola, però sono contento perché vuol dire che Napoli mantiene il titolo di capitale caffè perché nel suo piccolo riesce ancora influenzare tutti gli italiani. Procediamo alla realizzazione del caffè scegherato, dunque è facilissimo, due tazzine da caffè, quattro cucchiere di zucchero, quattro cubetti di ghiaccio e si versano tutti dentro a questo robottino da cucina tritatutto. Prima di tutto prendiamo due tazzine, due tazzine, quattro cucchiaini di zucchero, uno, due, tre e quattro, e quattro cubetti di ghiaccio. Faccio vedere come si fa. Grazie. in due minuti si fa il caffè sceglare a casa vi ringrazio, arrivederci vi aspettiamo a Napoli al caffè Cambrinus